Parte di Camara, ancora l'Uruguay che spinge, si avvicina ai 16 metri con Alves Coelho, lo scambio ai limiti dell'area, palla buona, pallone in rete calciato da Zelaieta ma c'era stato lo sbandieramento della guardalina e vediamo se l'arbitro convalida, così è l'arbitro convalida il gol di Zelaieta e dunque l'Uruguay è passato in vantaggio in sospetta posizione di fuorigiocari, vediamo, no, era abbondantemente al di qua della linea, la difensiva avversaria dunque regolarissimo, il gol realizzato da Zelaieta, perfetta l'esecuzione, un diagonale imparabile per il portiere del Gana, Asoma Oscar, un diagonale di interno.